buongiorno e buon caffè leggo il giornale oggi e non posso fare a meno di così buttare qui un caffè instant all'istante perché c'è una riflessione che proprio mi sgorga da dentro qualunque siano i fatti che attraversano percorrono inerbano il nostro paese c'è sempre una posizione contrastante due posizioni politiche o culturali che si scontrano all'ultimo sangue è colpa tua no è colpa tua le parole sono violente i comportamenti sono violenti insomma è un contrapporsi coltello la mano che tra l'altro per accusare gli altri di violenza è per lo meno divertente se uno va a vedere bene dietro le quinte ma il punto che voglio sollevare è diverso vogliamo realmente raggiungere un accordo e questo è una metafora di tutte le discussioni che affrontiamo magari quotidianamente anche con i colleghi con i parenti con gli amici in famiglia vogliamo realmente trovare una posizione di verità fare un passo avanti o ci limitiamo a confrontarci per il gusto di farlo perché a me non risulta non risulta mai che in nessuna situazione specie quando sono situazioni che si trascinano da tempo prendiamo il caso dell'immigrazione tanto per farne uno che è di moda adesso ma non perché voglia parlare di immigrazione ecco dove ci siano delle parti nettamente contrapposte da un lato qualcuno che ha totalmente ragione e non ha mai sbagliato e dall'altro qualcuno che ha completamente torto e non ha mai fatto neanche un cicinin di cose giuste se non partiamo dal voler riconoscere di avere magari commesso un errore e di considerare che la controparte abbia fatto qualcosa di giusto non andremo da nessuna parte se non cominciamo dall'umiltà dal voler dire proviamoci ragioniamo insieme vediamo di capire forse possiamo aver sbagliato dimmi qual è la tua posizione io ti dico la mia e insieme troviamo una quadra non andremo da nessuna parte buongiorno e buon caffè buon caffè